Il sindaco Paolo Foti continua a tacere sul caso Arvonio, la discussa nomina del comandante della polizia municipale, già passata al setaccio degli ispettori del lavoro e ora al baglio della magistratura. Molte le illegittimità evidenziate, eppure non c'è stata nessuna reazione, come se nulla fosse accaduto. Proprio per questo rivolgiamo al sindaco di Avellino alcune domande. Non deve rispondere a noi, ma alla città. La prima, perché si è deciso di nominare un comandante esterno se il comune aveva il preciso divieto di non assumere nessuno? Perché non è stato scelto un dipendente, che pur era più alto in grado rispetto a Michele Arvonio? E perché è stata stipulata una convenzione a dir poco discutibile con il comune di Tufino? Perché inoltre non è stato chiesto un parere ai organi competenti sulla regolarità dell'operazione? E perché si continua a far finta di nulla anche se c'è la concreta possibilità che l'attuale comandante sia abusivo? Perché si era deciso di effettuare un concorso per la scelta del comandante, anche se era palese l'illegittimità del bando? E infine la settima domanda. Perché il sindaco Foti ha scelto personalmente Arvonio e non al termine di un regolare concorso?